Via Carducci e Parco del Piraghetto a Mestre sembrano essere di nuovo zone preferite dai senza fissa dimora che trascorrono lì la notte tra cartoni e bivacchi sotto gli occhi dei mestrini o delle famiglie che frequentano il Parco Giochi. Un allarme lanciato dai residenti che si sono accorti che la sera queste zone si trasformano in rifugio per sbandati, un fenomeno che si era visto in passato e che ora si teme possa riproporsi. In passato sì, ho visto che nei giochi dei bambini dei cartoni che sicuramente la sera dormono dentro. La questione della sicurezza ormai è diventato uno dei motivi principali anche della politica, sia a livello locale che a livello nazionale. Però poi si parla parla ma di fatto i risultati non ci sono. Quanto alla soluzione ai rimedi non ci sono dubbi, sono i controlli e le presenze delle forze dell'ordine a dare sicurezza a chi frequenta questi luoghi. Più controlli sicuramente. Ogni tanto magari la polizia municipale girare. Perché è un bel parco questo. Più che altro, perché è l'unico parco a un centro di mestre, tutto trascurato. Più controlli, più controlli e più controlli e basta. E anche sanzioni adeguate. Quindi l'unica richiesta che arriva dai cittadini è quella di aumentare la presenza della polizia municipale o di rendere più frequenti i passaggi delle auto di servizio per ottenere un duplice risultato, controllare e identificare chi bivaca qui e combattere il degrado dando una maggiore sensazione di sicurezza ai residenti.